Che sia fantastico Dobbiamo comunque aspettare Ok, va bene Vediamo che fare Ma dove i c***o sono tutti? Stavo pure sbagliando Molto molto velocemente anche Eccoci Qualcuno ha avuto pietà di Ivan Che ha bloccato Lo vediamo schiantare Qualcuno aveva avuto pietà di lui Io l'ho trovato A spazzatura lì dove si fa Potrei dire che confermo Una cosa su Ettore Che lui è passato Dalla comisica stanza all'acqua Dove si pilota E praticamente io rintrappolo Lui poteva entrare e mi poteva ammazzare Invece è andato a tirato dritto Lei bisogna vedere Se aveva già ucciso Non poteva Io ho visto Mary Invece fare asteroidi Quindi non è lei Anche io Con fermo Quindi è la prossima vittima Dell'assassino No vabbè Io stavo guardando un po' le telecamere Poi non vedevo nessuno Ho detto vediamo un po' come la situa E poi sono andato a fare un paio di mixtions Che mixtions E quella di scaricare Di scaricare Vabbè Quella di scaricare le foglie Solitamente quando sei vago Sei No quella che devi scaricare le foglie Lì come si chiama E poi quella della Della medical La polizia Esatto Io sono entrati in medica Lui è passato dritto Quindi sei tornato dopo Io posso dire Che Uber Mi sembrava molto stupante Quando ero da solo In caffeteria Sì perché T'ho visto là Ho detto Ma che fai Esatto Quindi avevi un comportamento Da innocente A meno che La stai giocando Poi non mi so a difendere Cioè mi piglia un'ansia Tutto qui Vabbè Vabbè Basta Basta Ok Siamo tutti qua Madonna Qua ho avuto Un comportamento Perfetto All'incrocio Tra l'ingresso al reattore E quello per la stanza dei monitor Uber E bufo maledetto Uber E bufo maledetto Questo Io sono innocentissimo C'è Allora Uber ti ha seguito Siamo stati insieme Per un po' Non è successo nulla Ho capito E io mi so Perché io sapevo Che tu Visto che tu Visto la scansione Che facevi la scansione In medical Eri tranquilla Ho deciso di seguire te Che così Quanto meno Io sono sicuro Di quello che succede Nel senso che Non sono io Lo sosside L'infiltrato E tu Non lo potevi essere Quindi potevamo Fare le cose assieme Scusa un attimo Ma voi eravate Tutti quanti in electrical Poi io me ne sono Sceso Me ne sono andato Verso destra Tu poi Come hai fatto A trovare il corpo Cioè Hai lasciato Mary E sei andato Verso Perché Io sono sceso Sono andato Verso La camera Del Deposito Il magazzino Ho preso Il cavisto Che c'ho da fare Il carburante Ho preso Il carburante Sono andati Indietro Quando siamo Scesi verso Elettrica Io mai sono andato Verso Ossigeno Insomma Ho fatto il giro Che avevo Delle tasche Da quel lato E GoFu È andato Verso Sinistra Dove Ma avete detto Io ero Proprio Dall'altro lato A farle Tasche Ma io ti ho visto Che andavi a sinistra Quando sei cito Da electrical Io sono andato A destra E tu a sinistra Io c'è il sospetto Forte Metà di tasca Alaska mi ha votato Ma non ho capito Perché vedi Senza Amy Resisto di più Adesso volevo Giocarmela Un po' così Perché Amy Mi avrebbe già sgamato Sarei già stato Preso Preso male Voglio Voglio un attimo Temporeggiare Così Vorrei Vorrei tenere Il più possibile La situazione Allora Ok Perfetto E l'abbiamo Smazzato Per bene Allora Se ne riusciamo Ad ammazzare Un altro Arca Il cooldown Che errore Davide Che errore Che errore Che errore E vai Ragazzi Però dovete avere Più fiducia In quello che E vai Meno Sicuro E allora votalo E vai Vabbè Ma eravamo in 4 Eh ma in 4 E in 3 Che si perde In 4 Si può ancora rischiare E meno male Perché ha ucciso Temi Perché se no Mi sgammate al volo Io ho detto una cosa Che l'ho beccato subito E ho certo Che era lui Perché E il suo modo di fare Quando non sa Che cazzo Di Alice Sto facendo I super task L'ha detto Di tutte le volte Che ha fatto l'impostore Tutte le volte Si è difeso Dicendo Sto facendo Il super task Quindi Quando io ho detto Cosa stavi facendo Non lo sapeva Perché non sa Giustificarsi Sto facendo I tasconi Poi Etto Tu Hai capito Tu che Etto Hai capito anche Che l'hai visto andare A sinistra Abbiate coraggio Sulle vostre idee L'avate Sì Allora Provo a giocare col mouse Forse funziona meglio col mouse Scusa Con cosa giocavi? Con il pad Con la cloche Joypad Con la tastiera anche Il volante Lo vedete se funziona Il joypad Joypad Con i pedali E il volante Esatto Aspetta Devo fare un'uccisione Accelero No che palle Che odio Sta cosa Oh L'ho fatto subito Eh vabbè Facciamo questo Così mi No Eh lo sapevo Che era lui Lo sapevo L'ho visto arrivare Aggressivo Maledetto Oh Ma No ma Scusa Che mi ha ucciso Emi Perché Non l'ha visto Ah l'ha visto Guarda che l'ha visto L'ha visto L'ha visto Raga L'ha visto Che è successo Allora Professor Bloom Dove C'è il reattore Io l'ho visto sparire Quindi ha preso la botola No Ego negatorio Ma sono salito su Io ti ho visto Io ti ho visto passare Allora se l'hai visto botolare Ho visto botolare Perché ho visto il personaggio sparire verso il basso Emi Emi Stasera non sei in forma Io sono andato verso l'alto Stasera non sei in forma Emi Vero 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 Giorgio Sei d'accordo con me Ma che ti sbaglio Ma che ti sbaglio Ma che ti sbaglio Non importa Io sono certo di quello che ho visto Io confermo Vi confermo Che ero negatore Ma guarda che ti sbagli Perché c'era Davide che era vivo Che stava facendo il memory Ti ho visto passare Cioè io sono entrato Davide affermò almeno Io non riuscirei mai Passare in corridoio Ma io sono andato su A fare i numerelli Che stavano in alto Ok Quindi Davide è morto lì Io non l'ho detto questo Perché non l'ho visto completamente No non so dove è morto Tu hai detto Era vivo Tu Io Io ero con Davide Vivo nel rattore Ok Appena sono entrato Ti ho visto passare nel corridoio Però lui è bravo Però lui è morto Però io sono andato su A fare i numerelli Tu teneri andato Poi io sono uscito Sono uscito Sono uscito E sono andato verso il basso Verso elettrica Io ho sbagliato una cosa Che doveva entrare Però non ero sicuro Che tu avessi ucciso qualcuno Tu doveva entrare Per vedere se avevi ucciso qualcuno Comunque Io Voto Io quando me ne sono uscito Guffazzo maledetto Era vivo Quindi non so se c'era qualcuno Nella ventola Che aspettava Nella botola Che aspettava Che io me ne andassi Per ucciderlo Ma mi ha comito di più Il discorso di Fabri Cioè secondo me Lui non si avessi conto Così lo beccano subito No Secondo me non mi ha notato Non mi ha notato Ma scusa Ti direi che non ero lì Se ero l'impostore Ti sto dicendo che ero lì Però ti dico Io ti ho visto passare Ma sono andato in basso Io c'ero E c'era anche Davide Però quando io sono uscito Quando tu sei andato su E io sono sceso Davide era vivo Poi dopo non ho fatto in tempo Per raggiungere Electrical Che hai suonato Io non so come fa Scusa E quanto tempo ci vuole Tu sei passato di lì E hai detto che sei andato A suonare All'emergenza Ci vorranno almeno Una ventina di secondi Io stavo per raggiungere Electrical Ed è quando me ne sono andato Ancora vivo Cazzo Non votano Devo votare Non avete votato nessuno Mo votate me Ma se dice Eh vieni Anti-sgamo però Eh dai Era anti-sgamo Infatti Scusa Mi siete detto Che ti ha visto votare Oh Hai visto Quello che diceva Che faceva i super task E non l'avete votato Io almeno Ho fatto Una Una psicologia inversa Dicendo sì È vero Lì Ma in quei 20 secondi Sono andato No no È lui di sicuro